A Macerata c'è il timore che fatti come quello di sabato possano ripetersi ancora. Gli incroci principali sono presidiati dalle forze dell'ordine. La paura è che qualche lupo solitario possa di nuovo coppiere un gesto eclatante. La comunità nigeriana ieri non ha partecipato a nessuna messa per paura di ritorsioni. Veramente ieri non era possibile per noi celebrare la messa perché tutti abbiamo avuto la paura della sicurezza. La prima volta che noi non abbiamo mai celebrato la messa domenica. Padre Eugenio, nigeriano, è venuto all'ospedale di Macerata per visitare i feriti che ancora sono ricoverati. Tra loro c'è Wilson, vent'anni, viene dal Ghana. Racconta a padre Eugenio di essere stato colpito alla spalla, un dolore enorme, poi ricorda poco. Ci dice di essere venuto in Italia per studiare e per lavorare. In Africa ha i genitori e due fratelli più piccoli. Spera di poter mandare a casa un po' di soldi per farli vivere meglio. Come sei arrivato in Italia? Sono arrivato su un gommone, dalla Libia. E quanto tempo sei rimasto in Libia? Un anno e cinque mesi. Un anno e cinque mesi. Qual è stata la tua esperienza in Libia? Terribile. Ho visto tante cose brutte, tante persone uccise, vendute, soprattutto persone di colore. Lì gli esseri umani sono trattati come animali. E sei contento che oggi padre Eugenio ti è venuto a trovare? Eugenio ti è venuto in l'ospedale? Sì, tanto. Incontrare un sacerdote è incontrare un uomo di Dio. E in questo momento ho bisogno enorme di conforto. E' un uomo di Dio.